È la prima volta in Serie A di questa città, bellissima, come un compoli, per lui è la terza, è la terza promozione col Campi, però per la prima volta qui davanti al nostro pubblico, finalmente, che sa fuori ha. È una goduria, una promozione che poteva arrivare sabato, non ci siamo riusciti, questa sera non potevamo fallire davanti ai nostri tre cosi. Senti, qual è la caratteristica volta di questa squadra? I tuoi cattolini, questi ragazzi sono bravi ragazzi che hanno fame. Ha detto la verità, siamo un gruppo fantastico, l'abbiamo capito già dall'inizio stagione dal ritiro e partita dopo partita ci trovavamo dentro di noi la cattedra per andare in campo di partita e se siamo arrivati qua veramente ce lo siamo meritati. Non ce l'hai pensato, eh? Accettate a costo di arrivare qua. Magari no, però come ti ho detto abbiamo preso consapevolezza di noi ed è veramente bellissima! Ci rivediamo! Sì, non so, ti potrebbe anche questo, l'abbiamo abituato a festeggiare promozioni, studenti e occasioni varie, insomma, per liberare la propria gioia come fanno i tifosi del car che non se lo aspettava fuori, ma chi se lo poteva aspettare? Aspetta! Aspetta! Aspetta!